Potrebbe essere chiamato il giorno del giudizio, il 5 gennaio 2023, perché alcuni analisti stanno tirando fuori dalla sacco l'idea che la questione legata all'ETF spot bitcoin possa essere in effetti approvata proprio nella notte del 5 gennaio dopo la chiusura dei mercati americani, cioè dalle 22 in poi. Perché questa notizia? Perché sostanzialmente quando ci sono alcuni avvenimenti importanti, soprattutto alcune tipologie di news da dare, è preferibile farlo quando i mercati sono chiusi e oggi è anche venerdì, quindi nel momento in cui viene dato questo tipo di informazione i mercati americani sarebbero chiusi per il weekend e poi riaprono lunedì. E questo permette anche di creare meno volatilità, cioè di un po' assorbire quella che è la volatilità di breve periodo e far un po' decantare i cosiddetti animi. Allora questa cosa è valida tanto per quanto riguarda bitcoin, perché in realtà bitcoin poi resterebbe aperto quello vero, quello che trada nei exchange è che il vero bitcoin non il derivato resterebbe comunque opening, quindi secondo me questa cosa diciamo non sta tanto in piedi. Però l'idea che magari alcune istituzioni finanziarie potrebbero dare un aggiornamento su questa news proprio alla chiusura dei mercati di oggi è da tenere in considerazione perché non è un evento isolato e è avvenuto tante volte e questa è una cosa oggettivamente che avviene appunto spesso. Però in tutto questo marasma di attesa, 5 giorni di fuoco che distanziano l'attuale situazione di bitcoin e dei mercati a quella che è la fatidica data che io vi ho inserito in questa lineetta proprio lo spartiacque del 10 di gennaio, c'è anche la news, c'è anche l'analisi di Arthur Hayes che se ne esce fuori con una bastonata nei denti, cioè si scende fino a marzo, in realtà non dice proprio così, non dice si scende fino a marzo del 2023, ma dice che a marzo del 2023 potrebbe esserci una brusca correzione dei mercati del generale, quindi non solo cripto ma soprattutto cripto e bitcoin in particolar modo. Vera non vera, analizziamo anche questa news oggi per andare a capire se Arthur Hayes in questo contesto sta dicendo cose sensate e lo andremo a sposare anche con la questione legata all'analisi ciclica. Perché un pochino, un pochino ci sta questa view di Arthur Hayes e lui la fa da un punto di vista macro. Allora iniziamo subito con una questione di analisi tecnica sull'attuale situazione per prepararvi a quelli che sono sabato e domenica e non sono in video sabato e domenica, dovesse succedere qualcosa ovviamente ragazzi andiamo tutti in live la domenica, luna di notte, non lo so, vabbè, insomma, andiamo tutti in live a vedere cosa succede, però in linea di massima volevo anche spiegarvi quelli che sono i valori da andare a revisionare per la settimana, quindi per la questione legata alla chiusura della settimana. Allora, per quanto riguarda questa struttura vi sto mostrando quella che è un'analisi di natura tecnica molto semplice, questa è una figurazione che è abbastanza comune nell'analisi tecnica, vi mostro il disegno teorico. Ecco la figura teorica di cui vi sto parlando, teoricamente ragazzi ci sono un po' delle differenze con questa che si sta creando in questo momento, però il concetto che mi interessa spiegarvi è proprio questo, è un cuneo teoricamente, ma in questo caso non è più un cuneo, ma bensì è identificabile come una specie di trend di rettangolo classico con un trend al rialzo, però il problema di queste figurazioni di analisi tecnica è che avvengono solitamente all'apice di trend rialzisti, e quindi quando sono all'apice di questi trend, queste figure di struttura di analisi tecnica tendono ad essere figure di inversione, soprattutto o inversione o comunque barra di congestione, cioè blocco della fase rialzista precedente. Anche se in effetti è strano vedere una figura del genere proprio in concomitanza con questa news dell'approvazione, sembra strano, però io vi dico quello che la figura di analisi tecnica ci sta dimostrando, è anche vero che poi andrà confermata quindi volendo in questo momento comunque resta una fase di indecisione e non di inversione, bensì però ci indica due livelli importantissimi, cioè questo livello qui è anche la fase giù, quindi la trend line ascendente che unisce i minimi che partono dall'11 di dicembre fino alla struttura di qui, ovviamente non si usano le shadow quando andate a utilizzare questo tipo di figurazione, perché soprattutto su mercati molto volatili come bitcoin non ha molto senso utilizzare le shadow, però qualcuno di voi le potrebbe utilizzare, sarebbe più corretto andare a utilizzare proprio queste figure qui, quindi le inversioni, le chiusure, scusate, delle strutture. E qui risulterebbe ancora più evidente, se usiamo la close, come si stia creando un cuneo, perché? Perché questo non è più un rettangolo, ma vedete si abbassa un pochino, e questo teoricamente si va ad alzare un pochino, e si forma molto di più la figurazione in questione. Fermo restando che io non amo questo tipo di figure, in realtà però sui mercati delle crypto a volte funzionano e funzionano anche benino. A cosa dobbiamo stare attenti allora alla questione? Che questo livello, cioè 42.800 prima e 42.000 dollari, non venga breccato, cioè non deve essere breccato, soprattutto in chiusura dei lice, non dobbiamo avere una chiusura del giorno al di sotto di questo livello, perché lì sarebbe effettivamente pericoloso, e andremmo poi a identificare una forma di inversione di breve periodo di questo tipo. Quindi il cosiddetto magari, o se è l'ognuso, se l'ETF verrà approvato, o il cosiddetto crash dovuto magari a una mancata approvazione dell'ETF, quindi una delle due ipotesi. Questo livello di analisi tecnica assolutamente dovete ottenerlo in considerazione, ed è una figurazione importante. Il breakout realzista invece configura questa struttura come una fase di riaccumulazione, anche se in realtà la riaccumulazione avviene solitamente o in barra di congestione, quindi così, oppure avviene con dei pennant costruiti in questo modo, delle bandiere costruite in questo modo. Quindi tendenzialmente questo tipo di figurazione non è proprio conforme a una barra di riaccumulazione, e indica proprio la rischiosità forse di questa fase, di questo periodo. Occhi puntati su 42.800, 42.500 in seconda battuta, quindi molto vicini, e poi ovviamente la chiusura sotto i 42.000 dollari, che secondo me è quella principale. Poi deve chiuderci ovviamente ragazzi, shadow no, quindi close daily al di sotto, e in questa diciamo sarebbe una peculiarità. Andiamo poi a verificare anche un'altra questione invece legata all'analisi di Arthur Rice. Arthur Rice dice che non è conveniente in questa fase andare long sui mercati dell'ecrypto, perché bisognava riposizionarsi tempo addietro, quindi nella primavera, quando lui fece diciamo un'altra di queste analisi dove diceva ah super pump eccetera, quindi tutti dentro l'ecrypto è vero, questa cosa l'abbiamo analizzata anche sul canale. Tra le altre cose vi faccio vedere come questa news l'abbiamo appena pubblicata anche sul blog, ragazzi, il nostro nuovo blog tradingon.it, mi raccomando andate a visitarlo, ma sto pubblicando comunque tutti gli articoli anche sul canale Telegram, per renderli ovviamente raggiungibili. Qui spiega un pochino quello di cui parliamo oggi, adesso andiamo ad approfondire un po' quest'articolo, e in più vi ricordo ragazzi che proprio in virtù del lancio del nuovo blog di questo nuovo progetto, che comunque ha tante news dentro ragazzi, non solo articoli, vi assicuro ci sono un sacco di cose, soprattutto di natura tecnico-informatica, quindi sistemi, tools automatizzati per aiutare gli investitori di trader, perché è un blog che ovviamente ha l'obiettivo di fare quello. Allora in virtù di questa presentazione abbiamo anche le ultime offerte per quanto riguarda i corsi, che poi saliranno di prezzo, ritorneranno senza l'offerta, quindi poi ovviamente ci saranno le offerte durante i lanci particolari, però non nelle giornate normali, quindi Happy New Crypto, l'avevamo soprannominata così, tre giorni alla scadenza ragazzi, non vi fate scappare queste offerte perché sono molto convenienti, se volete formarvi, avevate intenzione di fare un corso di formazione che secondo me in questo frangente è assolutamente molto utile, potrebbe essere l'occasione giusta proprio in questo momento. Allora andiamo a parlare della questione di Arthur Ayes, Ragazzi cosa dice? Dice che ci sono tre fattori predominanti che dovremmo analizzare nei prossimi giorni per andare a comprendere se effettivamente ci può essere un calo dei mercati nel mese di marzo. Attenzione che Arthur Ayes non parla di un calo fino a marzo, ma parla di un calo a marzo, quindi lui dice anche che addirittura qualora dovesse esserci l'approvazione delle TF Spot e dovremmo assistere a un pump di Bitcoin, addirittura poi parla vicino ai massimi, vi faccio vedere la parte dove lo dice in conclusione qui, questo calo potrebbe essere addirittura più semplice, cioè verso marzo si potrebbe andare a verificare proprio questa cosa in maniera estremamente più semplice, qui spiega un po' questo pensiero, e parla in maniera molto chiara e dice potrebbe essere più facile assistere a un meno 30, meno 40% se l'all time high venisse ritocchiato, quindi se Bitcoin andasse vicino ai 60, 70 mila dollari. In ogni caso parla di un 20, 30% di correzione che potrebbe avvenire verso i primi di marzo. Ma perché indica anche questa data? Anche lui si è messo con la palla di vetro a dare questa indicazione, in realtà non è così, non c'è nessuna palla di vetro, ma Arthur Rice guarda esclusivamente quello che è la questione della liquidità, emissione di liquidità da parte delle banche centrali all'interno del sistema finanziario. Questa emissione di liquidità riguarda in particolar modo due punti fondamentali, cioè questi qui, cioè il Reverse Repo Program, che ora vi spiego in maniera, cercherò di semplificarlo perché è veramente un po' un sistema complesso, e vedete che sta discendendo questo sistema qui, la discesa, secondo Arthur Rice, di questo RRP indicherebbe anche emissione di liquidità, e da un certo punto di vista è effettivamente così. La discesa quindi indica che la liquidità immessa sta, viene immesta fin tanto che questo RRP ritorna vicino allo zero, e quando ritornerà a zero, in pratica non ci sarà un effetto di liquidità immessa, cioè quando qui si azzererà l'ultima parte di liquidità immessa nei mercati, verrà colmata, e in pratica non ci saranno emissioni da questo meccanismo. L'RRP ragazzi è un meccanismo attraverso il quale la banca americana, la Federal Reserve, dà la possibilità alle banche d'affari di dargli i loro titoli di Stato e ricevere liquidità, e questo assolutamente è corretto ragazzi, però in questo caso è un reverse, cioè in pratica la banca li sta comprando, quindi non lo fa il contrario, non li acquista lei, li sta comprando, quindi li sta togliendo in realtà, quindi sembrerebbe una riduzione di liquidità, però in realtà succede questo, nel momento in cui ci sono meno RRP che vengono utilizzati, vuol dire che le banche trovano altro modo di utilizzare i loro titoli e quindi ottengono maggiori rendimenti da altre situazioni, quindi li usano di meno, in pratica è un sistema un po' difficile da spiegare in pochissime parole, devo essere sincero ragazzi, però in realtà questa fase ribassista è non l'attuale livello, ma il fatto che stiano decrescendo significa che c'è più liquidità da spendere all'interno del mercato, anche se in realtà, perché moltissimi stanno utilizzando di meno questo meccanismo, anche perché la discesa dei tassi di interesse per quanto riguarda i titoli di Stato americani ha reso più accettabile l'utilizzo dei titoli di Stato direttamente, quindi non serve utilizzare la Fed come prestatore, diciamo come deposito, ecco diciamo così. Nel momento in cui poi, quindi Arthur Rice dice, questo livello tenderà a zero, si fermerà questo effetto liquidità all'interno del mercato, che comunque non è una liquidità diretta, non è che è un quantità divising, è solo un effetto indiretto che avviene. Dopodiché invece parla anche del BTFP, cioè il Bank Term Funding Program, quello che era il programma che gli Stati Uniti avevano buttato fuori qualche mese fa, un annetto fa se non sbaglio, per quanto riguarda le banche che avevano un problema abbastanza importante di liquidità. E quindi questo BTFP sta arrivando in pratica a scadenza, dopodiché la Yellen dovrà decidere se riapplicarlo o meno. Molti dicono che essendo questo l'anno 2024, l'anno della politica elettorale americana, cioè sostanzialmente l'anno in cui si aprono le campagne elettorali per quanto riguarda gli Stati Uniti, la Yellen a un certo punto tirerà un po' le redini di questo gioco e quindi dirà non rifaccio questo programma perché molti negli Stati Uniti non ne vogliono sentire parlare di salvataggi degli istituti di credito ed è antipolitico, quindi dal punto di vista di campagna elettorale una cosa del genere non funziona. Questo è sempre parole di Arthur Reyes, ragazzi, vi sto riassumendo, e quindi dici ok, non lo fanno. Poi però, secondo lui, alcune banche andranno in forte crisi e quindi alla fine sarà obbligata alla fine del mese di marzo. Quindi, in sostanza, questo è il suo ragionamento e poi parla alla fine di quello che è la Fed Cut Rates, cioè il ribasso dei tassi interesse della Fed che dovrebbe avvenire proprio a marzo. Quindi, in sintesi dice, noi a marzo avremmo una situazione di pericolo perché questo BTFP la Yellen farà pinta di non volerlo ristrutturare e poi sarà obbligata però dopo pochi giorni. L'RRP scenderà a zero, quindi il tasso di riduzione sarà nullo e quindi questo effetto indiretto di emissione di liquidità non ci sarà più e in più tutto avverrà, appunto, secondo lui, verso marzo. Quindi, verso marzo noi dovremmo affittere in pratica nelle prime giornate di marzo, fine febbraio-marzo, ad un ribasso dei mercati finanziari e secondo lui Bitcoin e le crypto potrebbero perdere addirittura tra il dente il 30%. Poi però, tra il BTFP che sarà nuovamente ripristinato, secondo lui, per quanto riguarda la Yellen e il fatto che i tassi di interesse della Fed saranno tagliati a marzo, se non marzo, comunque giugno, e allora si assisterà a una nuova fase di liquidità, quindi nuova onda di liquidità dopo questa fase ribassista e nuova fase rialzista. Quindi, secondo lui, riposizionamento da fine marzo in poi, quindi non è un ribasso imponente, ma è una correzione di un trend preesistente, questo è quello che dice Arturized. Questa cosa sta in piedi, assolutamente, sì ragazzi, anche da un punto di vista di questioni cicliche sta in piedi. Da un punto di vista di questioni macroeconomiche, io un po' i dubbi li ho, perché in realtà forse è un po' il modo in cui si vede questo bicchiere sempre un po' mezzo vuoto, in realtà comunque il fatto che l'RRP sia in declino significa anche che il sistema sta funzionando bene, cioè questo, non è che è sbagliato, che il taglio dei tassi da parte della Fed insomma viene scontato, non è che io non so che la Fed puoi tagliare i tassi. L'unica cosa su cui ha ragione è sul BTFP perché in realtà questa è una politica che abbiamo già visto avere effetti positivi su Bitcoin perché quando l'hanno tirata fuori Bitcoin ha fatto il pump e il fatto che ci sia il giochino politico è assolutamente non da considerare perché di solito fanno esattamente così. Quindi l'unico punto che sposo è questo qui al momento ma dal punto di vista di analisi ciclica e io non posso che ragionare dicendo che effettivamente qualora su questa fase anzi facciamo così vi porto l'altro grafico che è più chiaro di Bitcoin qualora Bitcoin in questa fase nella fase appunto di approvazione dell'ETF abbia strutturato il massimo il massimo del ciclo annuale che dovrebbe essere iniziato appunto a novembre dovrebbe andare in chiusura teoricamente verso appunto marzo in questa zona quindi se effettivamente il massimo è stato fatto o verrà fatto a gennaio dopo il pump magari dovuto all'ETF eccetera poi si andrà a consolidare con una fase di rallentamento barra ribasso fino a marzo quindi ci può stare questa view anche a livello ciclico ragazzi questa è la struttura dell'annuale questi sono mensili quindi la vedete così teoricamente appunto una fase di gennaio magari con questo massimo che non sappiamo se è stato fatto o sarà fatto se approvano questo ETF dopodiché febbraio in debolezza marzo un po' un dump per chiudere il ciclo annuale quindi ci sta non è che è una cosa che sposa alla perfezione anche la view del ciclo annuale quindi sarà così voi cosa ne pensate tra le altre cose e soprattutto questo non inficia nelle politiche nel il trend di bitcoin di lungo periodo perché non c'entra niente anzi sarebbe una correzione sana ma quello che dobbiamo stare attenti è proprio il mese di gennaio mese di gennaio che è delicatissimo ragazzi proprio perché è un mese in cui bitcoin potrebbe fare questo pump e chiudere i giochi ma non sappiamo se i giochi li ha chiusi con il raggiungimento dei 46 mila dollari e questa cosa è impossibile da sapere perché che sarebbe salito fino a dicembre era un po' una cosa nell'aria avevamo la mano facile ragazzi però da dicembre in pro i giochi diventano difficili per una questione sia tecnica sia per tutti i dati macroeconomici che ovviamente escono fuori e che già conosciamo ma AIS l'ha tirati fuori nuovamente la questione quindi si passa tutto secondo me sulla pomo finale dell'approvazione dell'ETF sì o no e basta perché altre news non ce ne sono da questo punto di vista e poi si dovrà guardare però ciò non toglie ragazzi che anche se noi abbiamo poco tempo a disposizione per tentare di fare nuovi massimi su bitcoin non toglie che questi massimi possono esserci e comunque anche essere impattanti perché a volte la fine e la parte diciamo di apice di un ciclo avviene anche con determinate botte rialziste o ribassiste notevoli ragazzi quindi non è che anche se bastano 10 giorni significa che questi 10 giorni non facciamo niente ma possiamo spingere e spingere anche in maniera consistente questo significa che comunque questi sono giochi da grandi da adulti da trader da formati da investitori e che sanno quello che fanno perché qui ci sarà un po' di volatilità da mettere in gioco però vi ho fatto vedere un costrutto di analisi tecnica a cui dovete prestare molta attenzione perché sarebbe un segnalatore di attention please dangerous attention please dangerous e poi di un'analisi che ci porta anche più in là nel tempo cioè verso marzo e quindi da qui a marzo abbiamo un'idea chiara effettivamente di quello che potrebbe succedere poi sarà così non sarà così ce lo dirà solo il prezzo magie non se ne fanno ragazzi però già un punto di vista chiaro una logica chiara la possiamo avere quindi io direi aspettiamo questo evento etf vediamo cosa succede e poi prendiamo le dovute considerazioni ma il grafico che vi ho fatto vedere prima tenetelo già in considerazione questo è molto importante anche per gli holder in questo caso e l'ultima volta che ho provato di holder era con il tip a 21.000 ragazzi adesso questo qui è anche importante per gli holder perché forse è il caso magari se dovesse avvenire una situazione un po' difficile non c'è questo pump atteso del TF forse è il caso di prendere un po' profitto ridurre i rischi a diminuire la volatilità dopo un'annata stellare che è quella del 2023 per poi riposizionarsi ragazzi non è detto cioè non mi sto dicendo di uscire assolutamente cioè per me è full long nei prossimi anni però una fase di attesa perché se facciamo appunto questo meno 30 poi magari meno 30 non lo voglio magari sul mio portafoglio detto questo va bene buon weekend a tutti questo 20 questa giornata alle ore 22 vediamo se succede qualcosa magari succede niente e in caso ci aggiorniamo ciao a tutti a tutti Grazie a tutti.